Creare progetti per permettere l'indipendenza di ciascun disabile è lo scopo dell'associazione giulese Iromollo, nata nei mesi scorsi e presentata lo scorso fine settimana durante un incontro che si è svolto nei locali del Palo Livatino. Il presidente è Gaetano Passanisi. Molto spesso le associazioni non vanno altro che mollare la situazione, invece noi non vogliamo mollarla, dobbiamo andare sempre avanti fino a quando ci riusciamo, nelle nostre capacità chiaramente. In questo momento l'associazione quanti tesserati conta? Attualmente non abbiamo tanti tesserati, abbiamo pochi tesserati però buoni, tutti che vogliono mollare la situazione, su questo non ci sono l'obbi. Nel direttivo dell'associazione fanno parte Costantino Rapotez, Patrizia Comandatore e Chetti Damante. Questa associazione nasce per garantire e promuovere affinché tutti gli enti istituzionali e non solo riescano a ottemperare i diritti e i doveri dei diversamente abili. Quindi non è soltanto un'associazione di diversamente abili ma anche di abili che è di persone comuni che aiutano i diversamente abili a ottenere ciò che è di loro diritto. Ma Gela questo è possibile? Gela è l'Italia, l'Italia in Italia è possibile, non tutto è possibile nel senso che non è normatizzato ancora a dovere, infatti in questo senso la conferenza stampa è voluta anche per questo, perché purtroppo l'Italia nonostante ha delle norme e si vanta di essere uno stato sociale, purtroppo non garantisce i diritti di questi soggetti. Sebastiano Granieri, social manager della nuova associazione. L'osservatorio per la legge 104 sulla disabilità, che tutti conoscete, sta individuando otto linee guida per rendere possibile un cambiamento interessante. In questo senso la ricerca e il modo di organizzarsi nei territori può essere ricco di innovazioni.